Ciao a tutti calciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft questo oggi faccio una cosa che non faccio da molto tempo cioè vi porto insieme a me alla scoperta dello snapshot è uscito oggi, giovedì lo snapshot 17v13a perchè è particolare questo snapshot? oltre al fatto che è uscito di giovedì e di solito gli snapshot escono sempre di mercoledì infatti io li seguo gli sviluppatori di minecraft su twitter e ieri Jeb ha scritto e stanotte, anzi dinderbo mi pare abbia scritto se fatto tardi stanotte lanciamo lo snapshot domani mattina in realtà questo è uno snapshot di cui hanno parlato già da qualche settimana e hanno già spoilerato alcune cose e quello che sappiamo è che come avete visto nella copertina ci sono i pappagalli e che potenzialmente ci sono delle modifiche all'albero degli achievement in teoria sono proprio stati levati e poi ci sono altre piccole cosette quindi io direi andiamo a creare un mondo solo per questo snapshot e andiamo a vedere effettivamente cosa c'è di nuovo ora visto che sono andato su un'isola e non è esattamente il massimo visto che devo andare a trovare sti pappagalli voglio parlarvi anche di un'altra cosa che non è stata aggiunta in questa modalità però sarà una cosa molto carina ci sarà possibilità signore signore e signore questa è una cosa bella di creare i letti personalizzati ora li sto cercando sto trovando un letto prima cosa non lo trovo neanche il letto letto questo è il letto classico che ormai è presente da secoli ormai quando uno pensa al letto di minecraft pensa ai colori rosso e bianco il cuscino il rossello qua e basta in realtà da uno dei prossimi snapshot si potrà farlo colorato ma non solo si pensa che potenzialmente ci sarà la possibilità di creare anche delle copertine personalizzate tipo con la faccia del creeper o dei banner tipo la mondiale dell'italia un po' proprio come i banner effettivamente ora sono usciti altri snapshot in passato ovviamente ma io non li ho coperti tutti come vi dicevo da un po' che non aprivo una versione anticipata di minecraft e moltissimi avete scritto che hanno aggiunto dei blocchi nuovi e volevo parlare un attimino i blocchi di terracotta prima cosa e poi c'è il cemento che sono questi blocchi qua che dovrebbe essersi concrete o dire cemento quindi non so bene come spiegarlo e come funziona per craftarla per craftare questo blocco finale abbiamo bisogno della powder cioè è come se fosse davvero un cantiere come se ci fosse il vecchietto come se ci fossero i nostri nonni lì con le mani dietro la schiena che fanno ahhh ai miei tempi i cantieri non erano così disordinati ad esempio se io prendo un botto di yellow concrete powder e faccio una cosa di questo tipo ora vedete che tipo anche dal suono sembra sabbia vado a prendere poi un bucket of water e posso poi con molta calma new recipe unlocked minecraft cauldron vabbè mi sa che questo ragazzi è una cosa che dobbiamo vedere dopo comunque come vedete se io faccio così con l'acqua tutto diventa tutto quello che va a contatto con dell'acqua diventa ehm cemento un cemento presa rapida molto molto rapida e io sto sbloccando un botto di ehm ricette ma questo magari ne parliamo dopo e quindi è molto bello perchè è tipo l'hardened clay è un po' più difficile da craftare visto che c'è l'utilizzo dell'acqua e funziona solamente con l'acqua quindi la pioggia non funziona se mi la metti sopra un calderone pieno d'acqua non funziona e roba così però molto bello colori molto accesi ha una texture praticamente inesistente no? cioè c'è la texture come vedete ma è leggerissima non si vede la differenza dei blocchi non è come un blocco di clay se io prendo la clay gialla a parte che ad essere molto più scura vedete che c'ha dei contrasti molto più netti rispetto a questa questo è un colore molto molto acceso che sarà utilissimo nelle costruzioni soprattutto magari statue o anche case case molto vivace magari moderne ora stiamo parlando di clay se io prendo un qualsiasi pezzo di clay e lo cuocio quindi prendiamo di una fornace questo è un recap delle cose che probabilmente chi di voi segue gli snapshot ha già visto non sono cose che hanno aggiunto in questo snapshot eh sono cose che hanno aggiunto negli snapshot in generale se io prendo magari una blaze rod e la inficco là dentro dovrebbe iniziare a cuocere e quindi la del clay diventa la terracotta che ha tutte queste piccole ehm rifiniture queste decorazioni che sono davvero davvero molto molto belle ad esempio guardate questa qui è la terracotta gialla e sopra sembrerebbe se c'è una una specie di fiorellino non lo so ma purtroppo non ha texture che si collegano cioè non è che se le metto quattro forma un fiorellino e quindi ci puoi fare i pavimenti e robe così però come vedete sono dei blocchi coloratissimi che ci aprono un mondo di possibilità davvero bellissimo qua guarda c'è la freccetta con il magenta e puoi fare le cose nel senso su quella piazza ci sono tante cose guardate se io cerco terracotta qui ci sono varie possibilità e quindi cioè guardate questo se non sembra un blocco del tether tipo quello la degli avengers bellissimo molto molto bello ora si possono anche salvare le toolbar ad esempio mettiamo caso che io ho questa toolbar la voglio salvare però voglio aggiungere una spada qui e voglio aggiungere un piccone qui e faccio control 1 e ora la mia cosa è stata salvata per se io faccio shift 2 mi si svuota perchè è una cosa nuova non l'avevo mai salvata faccio shift 1 boom mi torna automaticamente lì e se vado nell'inventario qui posso vedere la prima linea qua la seconda la terza la quarta la quinta fino alla nona com'è giusto che sia che sono nuovi numeri accessibili facilmente dalla tastiera ora nel changelog di questo snapshot c'è una cosa interessante c'è mi dice che facendo control b dovrebbe succedere qualcosa eh che ha detto nera ital inactive nera ital inactive che cosa ha detto frate cioè nel centro c'è scritto che hanno assunto un nuovo robot maggiordomo nera ital inactive mai ho capito quel caso nera ital active cos'è un comando vocale ma io spero di no comunque va bene allora parliamo dei nostri amichetti parrot potrei farli spawnare perché in teoria c'è l'uovo da qualche parte eccolo qui parrot però poi andremo a cercare oh mio dio che carino che sei sembra troppo 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 vabbè è tropicalissimo ovviamente qua siamo anche su un'isola c'è il mare quindi è azzeccatissimo poi guardate sono molto molto belli volano in giro e fanno i rumori belli e sono belli colorati ne voglio 16.000 voglio creare in minecraftita una serra piena di uccelli non lo so come si fa una casa piena di pappagalli e questi li ho spawnati io se riuscissi non so a parlare a trovare una giungla visto che questi pappagalli si trovano nella giungla sarebbe la cosa più bella di questo mondo ma perché qua non si aggiorna il mondo eh bella domanda ok tra l'altro questo snapshot penso abbia qualche problema con la generazione del mondo perché io non sto andando veloce sono incredibile ma non sto andando veloce e comunque come vedete sono certi chunk che non si caricano neanche dopo che gli passo sopra quindi questo potrebbe essere un piccolo problemino tra l'altro nel changelog dicono abbiamo risolto tantissimi bug però ne abbiamo aggiunti molti di nuovi eh bravi voi che cazzo vi devo dire qua c'è proprio una streghetta guarda il tuo amichetto pappagallino la strega e il pappagallo quanto bello sei quanto bello sei che ora voglio un pappagallo nella vita reale fa accompagnare ai brucellini in india raga quanto sono grandi i biomi in questo mondo questa pallone dura da 60 secoli oh che bello un lama no è una pecora marrone però poteva sembrare un lama a distanza dammi una giungla c'è guardate che bug gli alberi non si girano neanche del tutto c'è qualche prova di generazione questo snapshot è uscito da un'ora quindi se c'è qualche bug probabilmente entro quando uscirà questo video l'avranno risolto però se volete scaricarlo guardate che potrebbe esserci questo bug della generazione che personalmente mi sta dando un bel po' fastidio proprio visivamente anche perché non trovo una cazzo di giungla una giungla ti chiedo non nel mondo sai perché volevo trovare una giungla? non perché io non abbia la possibilità di spawnare i pyroch i bellissimi e simpaticissimi pappagalli ma perché volevo farvi vedere come timarli insomma come renderli domestici addomesticati in realtà non so come si fa perché non c'è scritto nessuna parte ma posso indovinare secondo me si dovranno usare dei semini pure le isole di sabbia rosso ho trovato ho mancraftita manco a pagarle ma la giungla no la giungla no è bello che anche se passo accanto a una giungla non mi rendo conto perché qua mi si vede un cazzo tutto bugato eccola eccola la giungla mamma mia secoli per trovarla allora spero solo che sia piena dove sono i miei pappagalli ah non so mi fai viaggiare 6.000 km per trovare una giungla oddio perché sento gli zombie i zombie ah no eccolo pappagallino bello però come vedete sta facendo il suono degli zombie perché evidentemente qui poco fa no non c'era uno zombie perché sono appena arrivato però i pappagalli imiteranno i suoni dei mob che gli sono vicini quindi in questo modo io dovrei sapere che magari qua sotto c'è una caverna con uno zombie e la cosa bella è che io volendo se clicco col destro su di lui dovrei poterlo temare in teoria apriamo con dei semini prendiamo dei seeds tipo posso darti i semini non posso dargli questi semini ma scusa di solito cosa si da un pappagallo i semi sono comunque uccelli che cazzo mangiano questi ah prima di andare in game mode 0 e a cliccare col destro su di lui no allora con la lead riesco a prenderlo e mi segue anche volando quindi bello da questo punto di vista bello quali tipo di semi prende tutti i tipi di semi questo mangia tutto questo no non volevo scusa no 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 non scappare però almeno sono bellini bellini sti pappagalli che cosa stai facendo ragazzi prima di concludere il video cercherò di informarvi per vedere se riesco a trovare un modo per temare sti cazzo di cosi intanto parliamo dell'altra cosa che è stata aggiunta cioè che è stata un po' rivoluzionata e cioè gli advancement non ci sono più gli achievements ci sono gli advancements e come funziona funziona che tu parti da le cose e piano piano devi fare altre cose quindi funziona come un achievement alla fine però in teoria sono di più e si sviluppano quindi ad esempio qua io vedo ottena blaze road ma anche semplicemente minestone io ho un piccone se io provo ad andare qua sotto e scavare della pietra in teoria come vedete mi è stato sbloccato un botto di roba perchè ho preso quel tipo di blocco ora non so neanche come funziona però è quello il problema perchè non ce lo spiega benissimamente però come vedete ora è diventato arancione poi minecraft minecraft non so cosa voglia dire potenzialmente vorrà dire di spaccare un pezzo di legno perchè la prima cosa che uno fa appena avvia minecraft è spaccare un pezzo di legno ora sto anche smeltando del ferro che in teoria dovrebbe darmi un altro di questi advancements ma da quello che mi diceva cioè da quello che leggevo su twitter dovrebbero essere tantissimi e infatti ho smeltato l'iron e si sono sbloccate altre cose ora posso fare iron tools diamonds obtain armor e deflect an arrow addirittura vedi sono tutte cose che poi si vanno a sviluppare io ad esempio ho trovato la blazer order e per quello che mi ha aperto questa zona degli advancements altrimenti probabilmente non ce l'avrei avuta se ad esempio faccio così non so se ok a questo punto butto per terra anche un piccone di ferro e dei diamanti per vedere se mi fa qualcosa il collettore mi dice che posso fare molte più cose con i diamanti e tutto quanto infatti ho sbloccato enchant an item shiny gear che vuol dire l'armatura di diamanti mamma mia ecco sto setto eh sta advancement per ora c'ho anche questo poi se prendo una cosa incantata dovrebbe sbloccarmi ulteriormente sta cosa e invece no devo per forza incantarla mi sa su me nether star potrebbe sbloccarmi una bella zona infatti posso fare il beacon ora però non mi ha sbloccato niente ok dopo che ho sbloccato l'ossidiana mi fa summonare il weeder quindi se io prendo una nether star ora in teoria dovrebbe darmi questo enchantment no devo per forza summonarlo il weeder ma visto che sono incredibile ragazzi direi facciamolo proprio vediamo che cosa ci da oltre a quello soul sand tanto siamo nella giungla al massimo ammazza i pappagalli ecco qua il weeder perfetto guarda bellino lui non ammazza neanche i pappagalli è proprio tranquillissimo però non non mi ha dato devo anche ammazzarlo forse ok ora si è incazzato dove è finito non lo vedo non lo vedo più scompasso il weeder eccolo e muori merda muori non ammazzare i pappagalli ok ora che è morto e che mi ha dato questa in teoria dovrei avere l'advan... ok non funziona neanche stiamo andando the weeder però oddio no ha appena fatto il rumore di quando esplode il creeper io impazzisco se mi prendo uno di questi raga l'hai sentito? infame che è infame... ecco ad esempio mi sono messo le litre quindi mi ha dato learn to fly enter a gateway quindi sono tutte cose che si fanno sbloccare col tempo però potenzialmente ragazzi è davvero molto molto lunga come roba cioè da quando inizi a giocare ad arrivare ad una litra ne passa di tempo perchè l'elitra è uno degli oggetti che utilizzi spesso migliori se non il migliore che trovi oltre ai vari beacon che derivano dai weeder e robe varie quindi tanta roba diciamo che è una specie di storyline di minecraft ti dice cosa fare te parti che ti dice fatti un piccone migliore vai a prendere dall'ossidiana poi entra nel nether in qualche modo dei fine dell'end questo è un po' il mood che ci sta dando questa advancement tutto strano basta non esplodere basta basta t'ammazzo ragazzi quando ammazzate un pappagallo come potete immaginare vi darà delle piume ok ragazzi sono andato sulla pagina dello sviluppatore della mod da cui hanno preso spunto e da cui hanno preso il modello proprio di programmazione e di design per mettere i pappagalli in minecraft e ho visto che per temare sti cosi servono dei biscotti io non so se è vero non so se mi sta trollando il tipo però nel dubbio voglio provare quindi andiamo a trovare eccolo qui un bellissimo simpaticissimo pappagallo io gli do i biscotti finchè non da i cuoricini ragazzi ha dato i cuoricini quindi oh cazzo scappi vieni qua ora c'è... nooo raga cioè sono un pirata sono troppo un pirata ora se mi metto una skin da pirata divento un pirata posso fare una barca gigante mi metto una skin con il cappello da pirata e divento un cazzo di pirata sono troppo contento ragazzi sono troppo contento ovviamente il pappagallo quando salti quando prendi il volo se sei in creative si stacca cioè altrimenti rimane lì all'infinito come cazzo fa ma ragazzi per questo video è tutto io mi piace tantissimo per la visione spero che questo video sullo snapshot vi sia piaciuto spero che vi piacciono i pappagalli e l'advancement tree e le cose che abbiamo mostrato dei vecchi snapshot che di sicuro alcuni di voi già conoscevano però oh ma che bello si teletrasporta pure beh è giusto perchè ora è il mio animaletto tra l'altro c'è scritto che se volo con l'elitra lui dovrebbe volare insieme a me quindi prendiamo dei razzi prendiamo della gunpowder un bel po' e prendiamo anche della carta ah tra l'altro ecco una cosa che mi sono scordato di mostrarvi che hanno messo il libro delle ricette che sono quelle cose lì che vedevamo in basso a sinistra che anche se premo E se premo E vado qui no solo quando ero il survival scherzavo comunque il libro delle ricette semplicemente quando sblocchi delle nuove ricette se tu clicchi ti dice come farlo e se tieni premuto su alcune opzioni ad esempio sulla barca ti puoi selezionare quale barca vuoi fare che tipo di barca ed è effettivamente una cosa comoda perchè uno almeno non deve andare sulla wiki per se non si ricorda un crafting cioè molto comoda qua purtroppo non c'è il crafting del rocket ma a noi non interessa spero di sblocca di sbloccarlo così ma non me lo sbloccate vabbè tra l'altro la cosa davvero interessante è che se avete qualcosa nel vostro inventario il bordino da rosso diventa bianco e dovrei trovare qualcosa ecco ad esempio di qua ho pollice granite se io clicco mi porta automaticamente il granito qua dentro e io posso fare il granito lo stesso per il legno posso se fosse clicco lui fa fare il legno vedete mi mette lui la roba la dentro e io lo faccio molto semplicemente sarebbe carino che funzionasse anche per i stack tipo se faccio shift click dovrebbe mettermi tutti la dentro io posso fare tutto così in generale però molto comodo molto comodo vuol dire che se io ho tutto qua nell'inventario clicco qua sopra me lo fa da solo quindi alla grande ad esempio facciamo una barca facciamo una barca quale posso fare posso fare solo questa perfetto boom ho la mia barca ci ho messo mezzo secondo per fare la barca detto questo facciamo game mode 0 voliamo e pipistrello ancora il mio amichetto pappagallo in realtà dovrebbe volare con me almeno questo è quello che mi è stato detto questo è quello che c'è scritto su twitter solo che io non lo vedo pagallino non si teletrasporta neanche vabbè evidentemente abbiamo bisogno di ancora qualche bug correction comunque per questo video è tutto domenica su tante supervisioni ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti